Buongiorno a tutti, sono Alex Liverto, faccio il bar manager per diversi alberghi a 5 stelle a Milano e oggi ho partecipato a questo corso interessantissimo, quindi lo consiglio a tutti perché si fa informazione e quindi saperne sempre di più è una cosa molto importante. Anche la differenza tra una mela bio e una mela normale, oppure sapere cos'è il glutine, cosa sono le lipoproteine, i lipidi eccetera eccetera. Quindi bellissimo, complimenti a tutti e spero di rivedervi presto perché vorrei partecipare ad altri corsi così. Arrivederci. Cosa porti via in particolare da questa esperienza? Un bagaglio di informazioni in più che da oggi non sapevo. Grazie.